Allora, in realtà il gioco non ci dà la possibilità di dirci, anzi di darci la missione. Quindi uno potrebbe anche ritrovarsi perso per sempre e basta. Nel frattempo sulla destra ci sono un quadrato rettangolo e abbiamo un simbolo dove c'è il rettangolo. Il gioco comunque non ci dice qual è il nostro obiettivo o comunque non è segnato sulla mappa. Non so se c'è la possibilità di farlo, io nel frattempo andrei al falò. No, è finita la canzone. Uffa. Aspetta, sono della parte giusta in realtà. L'accampamento. Ok, è qui che devo andare. Accampamento. Ok, devo trovare le persone. Ecco qui, eccole là. Ho visto le statue a forma di pesce alle cascate del suono del vento? Le cascate di suono del vento. Sono le statue dello spirito pesce-fish, che un tempo viveva lì. Cavalieri dello zodiaco. Prima quelle acque erano piene di pesci, dorati negli stagni bagnati dal sole, argentati nei bacini alla luce della luna, e tutti molto saporiti. Che poeta! Ho provato a reintrodurvi alcuni pesci, ma sembra che svaniscono durante la notte. Forse c'è qualche altro animale che li mangia. Ah, hai incontrato lo spirito volpe? Solitamente se ne sta vicino a casa nella montagna spezzata, ma ultimamente l'ho visto aggirarsi nei dintorni. Pensi che lo spirito volpe si sia mangiato tutti i pesci? In effetti la cosa avrebbe senso. Allora. Vediamo un po' cos'altro dicono. Sono andato a trovare Medvin, vicino al santuario di Kara, per vedere il santuario crollato con i miei occhi. Sono spaventato quanto lui. Ma devo chiederti un'altra cosa. Hai visto dei fantasmi? Ho notato dei segni luminosi e una strana distorsione nell'aria. Come tante piccole lucciole, ma non esattamente degli insetti. Credo si tratti di ciò che si chiamano memoria del passato. Immaginavo, immaginavo, cavolo. Si dice che la lanterna possa scoprire i segreti brillando sopra i segni. Erano citati incidentalmente in una storia per bambini che una volta lessi a Erin. Forse possono rivelare qualcosa di importante. Ho bisogno di un prememoria del prossimo luogo del tuo prelegrinaggio. Il santuario del Vespro è il più vicino e lo troverai a nord-ovest da qui. Ok, nord-ovest. Santuario del Vespro. Queste sono le lucciole. Che diceva lei. Oh, forse posso fare qualcosa adesso. Un momento che voglio alzare la musica. Non posso interloquire con questo. Quindi non mi dicono nulla. Questi dicevano qualcosa. Chissà se c'è della lore. Ma immagino proprio di sì perché si sta raccontando una storia. Però questi non dicono nulla. Quindi. E abbiamo aperto il tempio del Vespro. Vedi, vedi. Allora. No, aspetta. Continua perché voglio vedere che cosa... Che cosa dicono. Se dicono qualcosa. Che cosa dicono. Che cosa dicono. Oh! Santuario del Vespro Eccolo qui Ce l'abbiamo fatta Quindi anche loro lo cercavano Anche loro hanno fatto una sudata Per aprire questo santuario Immagino Cerco di La vela mia Mo' mi faccio una doccia Dice qualcosa? No Nooo ma dai Vabbè dai E' un indie Me lo si può perdonare Qui saremo al sicuro Quindi fuggivano da qualcosa Nell'intro Veniva anche raccontato Di questa specie di guerra Di una divisione Che purtroppo Non ho bene Non ho bene in mente Al momento Eh vabbè Allora Sole e luna Anche lì Giustamente Questi non dicono nulla Questi non dicono nulla Questo per esempio è felice Qua ci sono degli anziani Anziani Eeeh Boh La scalata Quindi È un'indicazione Salite di qua Boh sto cercando di interpretare a modo mio E non c'è nulla E non c'è nulla Ok Si vola? No non si vola Si c'è proprio questa cosa Ok Una cosa in cima No siamo in cima E questi qua Non riesco a leggerli però Ah no Il guardiano del crepuscolo Aprì i suoi occhi Alla luce del sole E della luna Brillando insieme Si sedette e con calma Prese entrambe Nelle sue celesti mani Si sedette e con calma Prese entrambe Nelle sue celesti mani Portando equilibrio Alla luce All'ombra E all'ombra Con la sua mano destra Liberò il sole Perché la gente Si svegli del sogno Con la mano sinistra Scagliò la luce Nel cielo notturno Così che la gente Potesse sognare Lei è il battito Delle stagioni Al centro del mondo Il respiro Della vita E l'ordine Sto ancora c'è Oh E tu? Non posso abbassarmi Ma non posso far nulla Mi spiace Perdonatemi Perdonatemi Ma sono un esploratore Quindi molto spesso Andrò in Cunicoli Cunicoli Cunicula Andrò in Andrò in Cuniculi Mi si suol dire Questo è un altro simbolo Però Continuiamo a andare avanti Non c'è più gente Ah no Ma ecco Pesci dorati Giusto? C'è gente che si è salvata Un fuoco Andiamo se aspetta Eh Ok Vediamo di qua Questa persona Guardava in alto Quindi in alto O guardava il buco O guardava quella sorta di ponte Non lo so Festeggiamenti Balli Abbiamo un'altra zona Aspetta Però ho cambiato il suono Cambia qualcosa? Ah L'area forse Una porta? No Ok Porte chiuse Porte chiuse E qui c'è la nuova area Però Aspettiamo Saliamo Piano Prighiera Inchina Ok Questa è la tomba della divinità? Sì La stessa Allo stesso marchio Di quello che c'era Sul Sulla parete Però non posso interagire Qui invece Leggi parte 1 Sono cara delle isole del tuono Ho fatto uno strano sogno Che annoterò qui In modo che altri Possono magari capirne Il significato Come ho fatto io Sono venuto a studiare Le sacre incisioni del faro Nella terra degli dei Provando a comprendere Il nostro retaggio Non appena toccai Alcune delle rune Mi senti come se Una mano Calda passasse Sopra i miei occhi E mi addormentai Sulla pietra sacra Quella Nel mio sogno Mi sembrò Che la pietra Sotto di me Brillasse Dall'interno Formando una scalinata Che arrivava Fino al cielo stellato Lontano Su quei gradini Una luce dorata Cresceva E si avvicinava Le stelle Volavano dal cielo E divennero Qualcuno Che aveva La forma Della musica Ed era gentile E triste Mamma mia Qui abbiamo La parte 2 Il dio Mi parlò Non con parole Ma con ricordi E sentimenti Mi avvertì Di una terribile Di una terribile Avidità Dentro di noi Del nulla Nei cuori Dell'uomo Quando me la mostrò Mi sentì Molto agitata Mentre i gradini Dorati Si oscuravano Come una nuvola Di tempesta Fredda Come l'eternità Terrorizzata Urlai Al richiamo Di questo oscuro Nulla E mi svegliai Non riusci A parlare Per tre giorni Ma partì Per gli antichi Tempi Immediatamente Se ciò Che ho visto È vero Gli dei sono vivi E hanno bisogno Del nostro aiuto Come noi Abbiamo bisogno Del loro Quindi Non è lei Oh sì Però Si addormentata Su un'antica pietra Su una Su una pietra No No Non è lei No non è lei Là c'è un altro punto Ma non posso Arrivarci Ok Cambiamo area Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti